Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ci sono delle cose che vengono per il truck e ora vengono per il rielo. E ci sono i soldi che vengono per il rielo, e ci sono i soldi per i secondari. Quindi è un grande problema di safety? Sì, assolutamente. È un problema di forse protezione. E anche, con le numerose shipments di diverse regioni, abbiamo bisogno di escoltare ogni convoy per inserire il rielo. Ma con il rielo, è una più sicurezza di transportare. it reduces the amount of forces that we have to use to escort each of the convoids that bring materials into Spiker here. Just a clarification. It was my intent of getting this rail spur open for a lot of reasons, primarily to get where we are in Spiker open as an industrial base in the future. This rail spur will provide the local community of Sikrit an ability to pull in large amounts of supplies, obviously, on the rail. It's my belief that between the rail spur and the airfield that's here, that the local area can develop a strong industrial base to improve the economic situation of the community.